Dopo il Ghana, l'Etiopia, il Perù e altri paesi, sia africani che sudamericani, l'Humanitas di Salerno amplia ulteriormente la propria presenza internazionale. L'associazione di volontariato infatti aprirà un nuovo distaccamento, stavolta in Bolivia, nel piccolo centro di San José di Chiquitas. Da Salerno partiranno attrezzature e due ambulanze che raggiungeranno la Bolivia in nave. Contemporaneamente sarà avviata una fase di formazione sul posto per il personale boliviano. Per sancire ufficialmente l'accordo si è mosso direttamente l'ambasciatore della Bolivia in Italia, che ha voluto visitare la sede dell'Humanitas a Salerno. La Bolivia in questo momento ancora abbiamo tanto bisogno di tante cose. Una delle cose è la sanità, i mezzi per la sanità. Ci sono piccoli paesini nella provincia che non hanno mezzi per soccorrere le persone. Quindi stiamo facendo questo convegno, questo accordo per fare, di trasportare mezzi che possono essere utili alla comunità boliviana residente in tutta la Bolivia in tutto caso, però comincieremo sicuramente con questo piccolo paese, San José di Chiquitos, vicino al Brasile e nel dipartamento di Santa Cruz. Come è nata questa idea, appunto, questo accordo con la Bolivia? Diciamo che nel nostro programma di internalizzazione abbiamo, come sapete, abbiamo una sede in Honduras, una sede in Costa Rica, una in Peru a Lima e adesso è nata questo aiuto da dare alla Bolivia e abbiamo dato subito l'assenza per creare lì questo distaccamento dove i nostri ragazzi porteranno, diciamo, una prima fase di formazione mentre arrivano i mezzi e poi da lì il personale boliviano continuerà il servizio. Cosa che stiamo facendo un po' qui in tutto il mondo, sono rientrato la settimana scorsa dall'Ettiope dove abbiamo aperto un distaccamento ad Isabeba. Diciamo, l'Humanitas ha fatto questa scelta ormai di essere un'organizzazione internazionale e dare solidarietà a 360 gradi in tutto il mondo.